Sono oltre 11.000 i chili di pile esauste raccolti in provincia di Rimini tra agosto e metà dicembre col progetto Energia al Cubo di Aerion Energy in collaborazione con ERA. L'iniziativa è partita da Misano in estate e si è poi estesa da novembre a tutta la provincia con una campagna informativa e la distribuzione di materiale. Le pile, se correttamente riciclate, sono una fonte importante di materie prime critiche di cui l'Italia è carente. Nel 2021 il tasso di raccolta delle batterie portatili in Italia è stato del 30% dell'immesso sul mercato, ancora troppo lontano però dai target richiesti dalla comunità europea, oltre il 70% entro il 2030. Sono 554 i cittadini della provincia che hanno partecipato alla competizione per la maggiore raccolta tra il 2 novembre e il 15 dicembre, conferendo complessivamente oltre 2.000 chili di pile. Il vincitore è Aldo Mario Canini di Rimini con ben 50,6 chili. Il risultato è impressionante perché molti amici mi hanno aiutato a raccogliere questo quantitativo di pile, ma io per scelta mia sono anni e anni che vado alla stazione ecologica a portare il rifiuto differenziato, perciò a me non mi ha costato nessun sacrificio, anzi sarebbe opportuno che lo facessero in tanti, quello che faccio io. Io raccolgo nel condominio la plastica, la carta, il vetro, il ferro e poi li porto settimanalmente alla stazione ecologica. Se tutti facessero una parte di quello che facciamo noi nel nostro condominio, forse avremmo una situazione ambientale più tranquilla, più accettabile. Il progetto nasce dalla volontà del Consorzio Aerion di coinvolgere la nostra azienda su attività di sensibilizzazione verso il cittadino. Abbiamo ritenuto necessario e opportuno coinvolgere il Comune di Misano Adriatico che ha una buona rete di comitati cittadini. L'iniziativa riguarda la distribuzione del cubotto, quindi della dotazione, il cubo da tenere a casa, che ha l'obiettivo di fare da promemoria per il cittadino. Quindi uno strumento utile per ricordare al cittadino che le pile non vanno messe nel cassetto, ma vanno portate alle stazioni ecologiche oppure alle colonnine che sono presenti presso tutti i punti vendita. È stata un'iniziativa molto importante perché ci ha dato degli ottimi risultati. Possiamo dire che nel periodo del concorso, abbiamo fatto il concorso a premi dal 2 novembre al 15 dicembre, che ci ha consentito di raccogliere oltre 2.000 kg di pile, che corrisponde praticamente al 20% delle pile conferite in tutto l'anno 2022. Quindi possiamo dire che è sicuramente un risultato importante che ci fa pensare che l'anno prossimo sicuramente faremo nuove iniziative sul territorio. Abbiamo puntato appunto proprio sulla sensibilizzazione. Infatti anche gli interventi che abbiamo condiviso con l'amministrazione e abbiamo fatto nel territorio di Misano Adriatico, puntavano, erano diretti agli utenti residenti. Quindi quello che volevamo fare era coinvolgere l'utente e fare in modo che lui si facesse il veicolo di un messaggio. Quindi informare anche gli altri. Dobbiamo dire che anche in questa cosa il signor Canini, che è il primo classificato, rappresenta proprio questo modello. Cioè ci facciamo portavoce di un messaggio sostenibile, un messaggio importante per l'ambiente. Sin da subito abbiamo sposato il progetto di Energia al Cubo perché bene si sposava nel solco della politica che questo comune ha attuato in questi anni e che attuerà anche nei prossimi anni e quindi vogliamo sempre una Misano più sostenibile, una Misano più ecologica e quindi in collaborazione con Elion e con Era questo progetto bene si sposava per il nostro indirizzo sostenibile e ambientalista. Bastano pochi minuti e ci vuole tanta collaborazione anche attraverso comitati cittadini e l'impegno di tutti i nostri cittadini misanesi che in questi anni si sono dimostrati molto attenti e che continuano a volere una città sempre più pulita. E quindi anche con la semplice raccolta delle batterie si prosegue in questo solco. Grazie a tutti.